Per iniziare ad ovviare il problema della funicolare del piazzo, l'amministrazione comunale ha varato un piano che prevede in questa prima fase l'attivazione di una navetta sostitutiva che partirà dalla funicolare e arriverà in piazza Cucco. Da lunedì al sabato saranno previste corse alle ore 9, 12 e un quarto, 16 e 30 e 18 e un quarto. Il venerdì e il salto ci saranno due corse aggiuntive alle 19 e alle 23 e 30. Sarà deciso successivamente, in base all'utilizzo che ne verrà fatto dal pubblico, se incrementare il servizio o ridurlo. Il sindaco Claudio Corradino afferma che per la funicolare sono già stati spesi molti soldi e occorreranno almeno altri 150.000 euro, oltre che tempo, siccome non sarà una cosa breve. L'intervento, aggiunge il sindaco, verrà fatto appena possibile, nonostante il prezzo importante, perché la funicolare rappresenta un bene fondamentale per Biella. L'assessore ai trasporti Davide Zappalà sottolinea inoltre anche un aspetto importante, ovvero la gratuità del servizio. Infatti, era importante non isolare il quartiere con i suoi residenti e tutti coloro che hanno investito nelle attività della zona. Nel frattempo, evidenzia come siano già partiti i lavori di riparazione dei contrappesi e sono allo studio alcuni progetti che potrebbero risolvere definitivamente i problemi dell'impianto.